Ciao a tutti e benvenuti. All'interno di questo video andremo a trattare del ciclo cellulare. Si definisce ciclo cellulare il periodo temporale che intercorre tra l'origine di una nuova cellula da una divisione mitotica e il momento in cui quest'ultima andrà incontro a una divisione. La condizione essenziale affinché questo avvenga è la duplicazione del materiale genetico. Avviene infatti la duplicazione dei cromosomi e la cellula madre genera due cellule figlie separate. E ovviamente, mentre questo accade, anche la cellula stessa deve raddoppiare la propria massa. Il ciclo cellulare è diviso in quattro fasi principali, l'interfase G1, l'interfase S e l'interfase G2. Queste tre costituiscono un periodo definito interchinesi, mentre l'ultima fase, la fase M, è definita come mitosi. Tra queste quattro fasi, la fase M è la più corta e dura circa un'ora, mentre la fase S è la più lunga ed è quella dove di fatto avviene la duplicazione del DNA. Durante la fase G1, la cellula raddoppia il volume del suo citoplasma. Successivamente, nella fase S, il materiale genetico viene duplicato. La fase G2 vedrà poi la cellula strutturalmente pronta per la divisione, che avverrà però soltanto nella fase M, dove il genoma si condenserà in dei cromosomi che, insieme ai vari organelli citoplasmatici, sono equamente distribuiti nelle cellule figlie. Gli intervalli G1 e G2 consentono alla cellula di raddoppiare la quantità di proteine e di organelli. Inoltre, gli forniscono il tempo necessario per valutare le condizioni interne ed esterne della cellula, e quindi di decidere se proseguire o meno con le fasi successive, in particolare quelle che vanno da G1 ad S. Le condizioni ambientali sono essenziali nel delicato momento in cui la cellula si divide. Queste determinano se la cellula è pronta a procedere da G1 a S, oppure se è necessario prolungare la fase di G1 o di entrare in fase G0. I tessuti più labili sono composti da delle cellule in continuo rinnovamento. Stiamo parlando dei tessuti epiteliali che periodicamente rinnovano le proprie cellule. Le cellule nervose sono invece soggette ad un importante processo di differenziamento, mentre quelle muscolari si strutturano in dei tessuti stabili, vista la loro scarsa capacità di divisione. Il loro ciclo cellulare, quindi, si interrompe in G1, prima che avvenga la duplicazione del genoma. Quando il blocco in fase G1 si protrae per molto tempo, la fase del ciclo cellulare prende il nome di G0. Nel corso della gestazione, in particolare all'inizio, a livello della segmentazione dello zigote e quindi della formazione dei blastomeri, si trovano variazioni della normale sequenza del ciclo cellulare. Qui, infatti, non sarà presente alcun accrescimento, poiché i blastomeri si dividono talmente tanto rapidamente da saltare totalmente la fase G1 e, in gran parte, anche la G2. Così, le dimensioni cellulari si dimezzano dopo ogni ciclo di divisione. Durante l'interfase, i processi di trascrizione dell'RNA e quelli di sintesi proteica avvengono continuamente, mentre quelli della replicazione del DNA sono riconducibili soltanto alla fase S. I cambiamenti più sostanziali che interessano la cellula in mitosi riguardano i cromosomi, l'involucro e la lamina nucleari e, inoltre, il citoscheletro. Infatti, anche gli organelli, assieme al genoma, devono replicarsi all'interno del ciclo cellulare. La coppia di centrioli che formano i centrosomi sono fondamentali. Inizialmente c'è un solo centriolo, il quale si duplicherà per poi separarsi. A questo punto ogni centriolo avrà una funzione di centro organizzatore dell'altro centriolo. Ti ricordo che, se vuoi ripassare la struttura del centriolo e di tutte le altre strutture legate al citoscheletro, puoi trovare un video sul canale che ne parla nel dettaglio. All'inizio della fase M, ciascun centriolo organizza un proprio aster e da questo un fuso mitotico, andando quindi a formare due coppie di centrioli. A questo punto iniziano a prendere forma anche i fasci di microtubuli, i quali si dipartono in maniera radiale, formando una sorta di struttura a forma di stella, chiamato aster. Questo evento determina l'inizio del fuso mitotico. I microtubuli del fuso mitotico possono essere divisi in tre classi, astrali, del cinetocore e polari. Nello specifico i microtubuli astrali formano l'aster e sono riconoscibili dalla colorazione verde. Inoltre questi si connettono stabilmente al citoscheletro corticale della cellula, ovvero quella porzione cellulare di citoplasma e di citoscheletro situato al di sotto della membrana. I microtubuli del cinetocore sono costituiti da diversi strati proteici e si colorano di azzurro. Questi si dipartono dalla coppia di centrioli e prendono contatto con i centrioli dei cromatidi fratelli. Infine, i microtubuli polari interagiscono tra di loro e questo fa sì che i microtubuli stessi possano muoversi l'uno sull'altro e anche questi dipartono dalla coppia di centrioli. Entriamo nello specifico della fase G1. All'interno della fase G1 il DNA nucleare viene trascritto in diversi RNA, processo catalizzato dal complesso del RNA polimerasi. Negli eucarioti l'accesso immediato dei geni è ostacolato dalla struttura fortemente compatta della cromatina. Per questo motivo deve avvenire una profonda riorganizzazione che comprende l'allentamento dei legami tra il DNA e gli istoni del nucleosoma, tutto questo prima dell'attacco della polimerasi. All'interno della fase G1 avviene quindi la trascrizione del DNA in RNA. Tuttavia analizzeremo più dettagliatamente questo processo in un video successivo. Una volta conclusa la fase G1 inizia la fase S sotto lo stimolo del complesso G1-SCDK e inizia la duplicazione del materiale genetico. Il meccanismo però della duplicazione insieme a quello della trascrizione verranno affrontati in un video a parte. In questa fase avvengono anche la sintesi e l'assemblaggio dei nucleosomi. La duplicazione del centrosoma è parte integrante della fase G2. Il centrosoma è definito come una porzione di materiale elettrondenso che è situato attorno al citoplasma, dove stazionano i centrioli. Fanno parte di questa fase anche i meccanismi di riparazione del DNA. Infatti la sua stabilità è fondamentale non solo per la corretta trasmissione dei caratteri, ma anche per impedire che vengano sintetizzate delle proteine in modo errato. La stabilità del DNA è un processo finemente regolato, che non dipende esclusivamente dai meccanismi di riparazione, ma anche e soprattutto dal funzionamento quasi perfetto della catena di duplicazione. La fase M o dimitosi è quel momento del ciclo cellulare in cui avviene la divisione, ovvero la riproduzione cellulare. Questo è un fenomeno che avviene continuamente e che si divide in quattro fondamentali tappe. La profase, la metafase, l'anafase e la telofase. Durante la prima fase, cioè la profase, il DNA è appena stato duplicato. I cromosomi sono condensati e visibili al microscopio. I microtubuli si dispongono a raggera, partendo dai due centromeri. Le estremità positive dei microtubuli sono rivolte verso la periferia, mentre quelle negative verso il centrosoma. Questi microtubuli, in particolare, sono quelli astrali. Le due coppie di centrioli iniziano ad allontanarsi e tra loro iniziano a prendere forma dei fasci di microtubuli, i quali andranno a plasmare il fuso mitotico. Tra questi fasci, alcuni, i microtubuli cinetocorici, si legheranno ai cromosomi, mentre gli altri fasci sono definiti interpolari. Così, mentre si va a definire il fuso mitotico, i cromosomi all'interno del nucleo spiralizzano. I cromatidi fratelli sono ancora uniti per tutta la loro lunghezza, tramite le coesine. Queste andranno poi rimosse a livello dei bracci, mentre rimarranno quelle a livello del centromero. Andando verso il termine della profase, si ha la fosforilazione delle lamine nucleari, inducendo la depolarizzazione della lamina, con conseguente disgregazione dell'involucro nucleare, che è in continuità con il reticolo endoplasmatico, pezzettandosi in delle vescicole di piccole dimensioni. Il nucleosoma è quindi a contatto diretto con il citoplasma. A questo punto la profase è abbastanza avanzata e inizia a prendere il nome di prometafase. I microtubuli del fuso possono prendere contatto con i cromosomi, a livello del cinetocore. Le estremità positive variano continuamente la loro dimensione, per cercare di esplorare l'ambiente circostante. Nel momento in cui queste entrano in contatto con il cinetocore di uno dei due cromosomi, vi si attaccano tramite la dineina, una proteina motrice che si muove verso l'estremità negativa. L'attacco definitivo dipende dalla CENPE, una proteina chinasi localizzata sulla piastra esterna del cinetocore, mentre i cromosomi iniziano a muoversi all'interno della cellula. Utilizzando delle particolari colorazioni è possibile osservare le coppie di centrioli che iniziano ad assemblare il fuso mitotico, situate all'esterno del citoplasma. La metafase è una fase molto importante. La condizione essenziale affinché la cellula possa entrare in metafase è il legame bipolare in ciascun cromosoma, ovvero che i microtubuli devono essere attaccati ad entrambe le parti del centromero. Una volta avvenuto ciò, i cromosomi sono trasportati al centro del fuso, nello specifico in un sito chiamato zona equatoriale, a livello della quale questi si allineano. Questo è un passo essenziale per permettere alla cellula di continuare la mitosi. Inizia così l'anafase. L'attacco bipolare determina una tensione di equilibrio da parte delle forze che attraggono i cromosomi verso i poli e, in parte, dalle coesine che tengono ancora uniti i cromatidi fratelli, i quali però a questo punto cominciano ad allontanarsi spostandosi contemporaneamente verso i poli cellulari per formare i cromosomi figli. Questa separazione è mediata da dei particolari enzimi, le separasi. L'anafase inoltre può essere suddivisa in due sottofasi, l'anafase A e l'anafase B. Durante l'anafase A i cinetocori dei cromatidi vengono tirati verso i poli da parte dei microtubuli cinetocorici, mentre durante l'anafase B il movimento dei due cromatidi verso i poli avviene insieme all'allontanamento dei due poli del fuso, dovuto all'allungamento dei microtubuli interpolari. Lo spostamento dei cromosomi dipende fondamentalmente da due meccanismi, la depolarizzazione dei microtubuli del cinetocore e l'azione motrice di proteine presenti nel cinetocore. Successivamente i cromosomi seguono questo accorciamento, grazie all'azione della dineina e di altre proteine motrici. La telofase invece è l'ultima fase della mitosi. I cromosomi figli raggiungono i poli del fuso e assumono una struttura più lassa, dunque meno addensata. L'involucro nucleare interno a ciascun gruppo di cromosomi si riforma. Le lamine vanno incontro a una reazione di defosforilazione e così si genera la lamina fibrosa alla quale aderiscono le vescicole derivanti sia dal vecchio involucro nucleare sia da una nuova sintesi dal reticolo endoplasmatico ruvido. Nel complesso tutte le vescicole andranno a costituire il nuovo involucro nucleare, dove poi si formeranno i pori nucleari. La citochinesi può essere intesa come l'insieme dei processi fisiologici e metabolici che inducono la divisione del citoplasma e quindi la fisica separazione della cellula madre nelle due cellule figlie. L'anello contrattile acquista la sua forma definitiva, questo contraendosi induce una sorta di strozzatura a livello del citoplasma, separandola in due metà in un evento chiamato segmentazione. Le due estremità della membrana plasmatica si invaginano fino al centro della cellula, dove incontrandosi andranno a fondersi. Inoltre in questa fase il nucleolo tornerà ad essere presente, dopo essere stato assente invece per tutte le precedenti fasi della mitosi. Tutte le fasi del ciclo cellulare hanno però bisogno di un sistema di controllo del ciclo cellulare. Il controllo del ciclo cellulare è dipendente da una CDK, ovvero una proteina dipendente da ciclina, capace quindi di generare degli specifici eventi molecolari che sono regolatori della corretta progressione del ciclo. Questa proteina infatti non permette che una nuova fase del ciclo abbia inizio se la precedente non è del tutto conclusa, con tutti i processi che questa comporta. All'interno del controllo del ciclo cellulare ci sono due momenti chiave. Il primo è quello che vede il passaggio dalla fase G1 alla fase S e l'altro è quello dalla fase G2 alla fase M. Le CDK regolatorie attivano tramite una fosforilazione tutte quelle proteine che iniziano e strutturano i vari processi. Queste sono sempre presenti all'interno del soma cellulare ma sono disattivate se non necessarie e si attivano soltanto ad opera delle cicline. I tre complessi principali di ciclina CDK sono G1 CDK formato dalla ciclina G1S e dalla proteine chinasi CDK2. Si ha poi SCDK formato da ciclina S più CDK2, MCDK formato da ciclina M più proteine chinasi CDK1 e infine G1 CDK formato da ciclina G1 e dalle proteine chinasi CDK4 e CDK6. Il primo complesso che entra in funzione è quello G1 CDK che attiva il processo di trascrizione dei geni per la ciclina G1S e per la sua sintesi. Questa ciclina va a unirsi alle CDK2 formando il complesso G1S CDK responsabile dell'inizio degli eventi della duplicazione. La duplicazione inizia a livello di specifiche sequenze chiamate sito di origine della replicazione la quale assieme ad altre proteine va a formare un complesso attivato solo se stimolato da SCDK. Il complesso G1S CDK induce la sintesi delle cicline S e quindi la formazione del complesso SCDK il quale innesca la duplicazione tramite l'attivazione del complesso replicativo. Successivamente SCDK fa associare CDC6 più DNA helicasi impedendo l'inizio di un'ulteriore replicazione. Una volta che il complesso CDK1, G1S e ESCDK hanno svolto la loro funzione vengono inattivati. Il complesso SCDK rimane in funzione per tutta la durata della fase G2 e nei primi momenti della fase M. Contemporaneamente nella fase G2 viene a formarsi il complesso MCDK attivato da una fosfatasi, la CDC25, che rimuove i gruppi fosfato dalla proteine kinasi. Tuttavia la fase M non avrà inizio fino a quando i controlli sulla corretta riuscita della duplicazione del genoma non sono andati a buon fine e il controllo di questo spetta al punto di controllo della replicazione, il quale in caso di anomalie interviene bloccando la CDC25 e con essa anche MCDK. Nel momento in cui MCDK viene inattivato, questo induce tutti i processi iniziali delle fasi di mitosi fino alla metafase. L'anafase è indotta dal complesso di promozione dell'anafase o APC, che spinge la separazione dei cromatidi fratelli provocata dall'enzima separasi, originariamente legato alla proteina securina, che invece lo inibisce. L'APC è in grado inoltre di disattivare l'MCDK provocando la proteolisi delle cicline M e questa disattivazione induce la defosforelazione delle proteine precedentemente fosforilate, con una conseguente uscita dalla fase di mitosi. Alla fine della fase di mitosi anche APC viene disattivato, consentendo la formazione del complesso G1-CDK che darà così inizio ad un nuovo ciclo. Una cosa importante è che alla fine della fase G1 e alla fine della fase G2 sono presenti dei punti di controllo del danno alla DNA. Questi sono dei veri e propri checkpoint che assicurano che le cellule non iniziano la mitosi fino a quando il DNA danneggiato o replicato in modo incompleto non è sufficientemente riparato. L'inizio e la durata di ogni fase può essere influenzata anche da fattori esterni, come ad esempio dei fattori di crescita o degli ormoni. Con questo abbiamo concluso il ciclo cellulare e il suo controllo. All'interno del prossimo video vedremo nel dettaglio la meliosi e tutte le varie fasi di questo processo. Per oggi è quindi tutto, grazie per l'attenzione e a presto!